L'impressione al manicotto in Gimolla per il disegnetto del pacco viso. E' questo il sistema Ergomatik che introduce una rivoluzionaria innovazione in termini di ergonomia e comfort. Per vedere, se tirate a fondo, azionano senza sforzo da parte del collecente anche i corrispondenti treni, consentendo di fermare il trattore tirando a fondo contemporaneamente entrambe le lute. Sperzare gli spazi ridottissimi tirandolo a foglio singolarmente. Anche per i freni sono state adottate soluzioni tecnologiche a favore del comfort, dell'affidabilità e della sicurezza. I freni sono a nastro in bagno d'olio, il comando è servo assistito idraulicamente, offrendo una frenata potente in ogni condizione, con minimo sforzo da parte del comitato. Secondo le necessità, la frenatura si può effettuare anche premendo entrambi i pedali contemporaneamente. I rulli di appoggio della cingolatura e le ruote e tendi cingolo sono in bagno d'olio con anelli di tenuta Long Life. Viene esaltata l'affidabilità con la minima manutenzione. Per la massima rapidità e praticità, la regolazione della tensione del cingolo è idraulica. Per l'impiego su cingolati, vanno sempre più diffondendosi attrezzi sforzati che rendono più agevoli le manovre e i torni a ruoto. Per questo abbiamo prestato molta cura nel progetto del nostro sollevatore idraulico che, oltre al controllo di posizione, svolge anche il controllo di sforzo. L'elevata capacità di sollevamento, 2.900 kg, consente l'utilizzo di attrezzature portate di grandi dimensioni e peso. Il trattore è provvisto di distributori ausiliari a 6 vietti. Uno di essi è facilmente trasformabile a semplice effetto e un altro è provvisto di posizioni portate. Per gli impieghi che richiedono minor potenza o dimissioni molto compacte, come nei vignetti, come i cittadini a più stretto spazio interfiare, Lamborghini propone i due trattori C554 e C664 Ergomatico. Equipaggiati con motori da 53 e 62 cavalli, sono disponibili nelle versioni Montagne Normale Compazza con una larghezza di soli 1150 mm per i 53 cavalli. Anche in questa gamma di potenza, presentiamo la modità assoluta di un posto di guida molto curato, all'altezza delle nuove esigenze di impatto di comfort ed ergonomia. Azionamento delle frizioni di sterzo, mediante leve disposte sul cruscotto a servo comando idraulico, Ergomatico. Ne risulta una drastica rinunzione degli sforzi del conducente. Posto di guida spazioso, con leve e pedali razionalmente distribuiti. Sedile anatomico regolabile. La compattezza di questi modelli, caratteristica indispensabile nei lavori interpilari, è stata ottenuta rispettando l'esigenza di robustezza strutturale e le dimensioni ideali, passo, larghezza e peso, per garantire aderenza e stabilità massime anche su porti per l'acqua. Due motorizzazioni di spinto, per ottenere le due potenze generalmente più richieste in questa classe. 53 e 62 cavalli, regimi nominali particolarmente bassi, 2300 giri minuto e con coppie motrici inutili già sotto i 1000 giri minuto. Il doppio raffreddamento, i bassi consumi, la facilità e la semplicità di manutenzione sono caratteristiche vincenti per questo tipo di prodotto e per le condizioni di impiego alle quali viene generalmente destinato. L'eleganza dello stile Lamborghini racchiude in linee e volumi ragnosi soluzioni tecnologiche grazie alle quali i nostri cingolati rappresentano un vertice del cotor, della filatilità e della produttività. L'integno dei nostri cingolati consente di realizzare elevanti pericini di due cose. Innanzitutto, la loro relanza della fragilità e la loro maggior facilità per questo lavoro, ottenuta grazie all'immaginazione di marcio, ci permette di stimare realisticamente monestormi di tempo del 10%, che significa che alle anno, mille ore, il considerevole risparmio di ben 100 ore. Tradotto nel risparmio di mano d'opera, queste 100 ore vengono 2 milioni di euro, a cui va aggiunto il risparmio di valore, ottenuto grazie al miglior consumo dei nostri vitori e al miglior tempo impiegato per il lavoro. Nel caso del nostro cingolato in cada live, avendo in contatto il nostro cingolato, che la sua interazione di un'attività di un'attività di un'attività di un'attività di di un'attività di un'attività di un'attività di un'attività di un'attività, tra 900 ore di lavoro e in potenza, si conoscegliano più sui cingolati di un'attività di un attività di un attività, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.